La prima volta è Royal? Avete l'opportunità di soggiornare in California o in Nevada? Voglio la suite Luna di Miele, anche se non sono in Luna di Miele. Che fa da queste parti? Devo andare a cantare a Reno domani. Non pagano niente, ma voglio solo cantare. Questo non è un posto per preti, padre. Non dovrebbe stare qui. C'è troppo silenzio, mi fa innervosire. Signore. Abbiamo un problema. Mi stavi spiando. Spio soltanto quelli che mi dicono loro. Loro chi? I miei capi. Pensavi davvero che non ti sarei venuto a cercare? No, lo pensavo invece. Sono pronta alle conseguenze. Si è smarrito, padre. Potrei confessarle una cosa. Non sono un prete vero. È un gioco. Comincia così. Con una semplice scelta. Può aprirmi la porta? No, io non voglio farlo. Da che parte state? Ragione, torto? Dio o nessun dio? Rosso o nero? Ho commesso ignobili azioni. Chi non le commette? Cose che capitano da me il whisky.